Mancano pochi giorni ormai all'accertamento tecnico sull'auto a bordo della quale viaggiavano l'area Mirabelli e Mario Molinari. Venerdì 20 settembre, in mattinata, i consuenti tecnici della Procura delle Parti esamineranno la vettura sotto sequestro e custodita giudizialmente presso una torrimessa dell'Inter Lancosentino dal giorno della morte della giovane donna. Il consuente nominato da famiglia Mirabelli, l'ingegner Fabrizio Coscarelli, ha deciso di farsi affiancare dal medico legale, scelta che potrebbe adottare anche la Procura per analizzare la compatibilità tra le lesioni rimedute sul corpo di l'aria e le deformazioni presenti sul veicolo. I periti non si fermeranno a questo, ma approfitteranno della disponibilità dell'auto per raccogliere altri eventuali elementi utili alle indagini, a comprendere ad esempio velocità e direzione del mezzo e soprattutto a stabilire chi fosse alla guida tra i due. I consulenti poi, lunedì 23 settembre, esamineranno anche i cellulari, almeno due, messi sotto sequestro. Anche su questo fronte si attendono elementi chiarificatori sulla vicenda. Intanto la storia si arricchisce di un fatto che non è strettamente collegato a quanto ha successo all'Orica, ma probabilmente aiuta a delineare il contesto in cui viveva l'aria nell'ultimo periodo. L'ex marito della donna ha sporto denuncia contro l'indagato per una presunta aggressione subita all'inizio del mese di luglio.